Musica Bentornato Guder, bentornata Andiamo a vedere una nuova sezione del sistema operativo Windows 8.1 Update Partiamo con il comando Esegui Questo comando è attivabile in diversi modi ma molto rapidamente tramite il pulsante Start Prima di vedere come si avvia andiamo a vedere le sue funzioni è un comando che ti consente di digitare il nome del programma da eseguire oppure della cartella, del file, del documento o della risorsa internet da aprire direttamente in una casella In pratica se conosci il nome di una risorsa che vuoi visionare oppure utilizzare puoi digitare direttamente nel campo della casella dove poter scrivere questo nome e premendo invio oppure cliccando sul pulsante OK si avvierà immediatamente il programma, il file o la risorsa scelta Quindi come si avvia? Immediatamente abbiamo detto cliccando con il pulsante destro del mouse sul pulsante Start di Windows 8.1 si aprirà un menu, una finestra con diversi pulsanti Uno di questi sarà appunto Esegui Cliccando sopra di esso verrà mostrato un piccolo riguadro in cui poter scrivere Altro modo per avviarlo è scrivere nel riguadro di ricerca il nome Esegui e quando ti verrà mostrato il programma potrai cliccarci sopra rapidamente Ancora, nel menu Start potrai sicuramente individuare il nome del programma con il quale potrai interagire con diverse opzioni e quindi anche avviarlo Una volta attivato nel riguadro scrivi il nome del programma o del file che dovrai aprire e clicca su OK oppure premi il tasto invio sulla tastiera qui come vedi il nome del programma e il programma che si è aperto Dopo un brevissimo tempo si avvierà il programma oppure il file Nella casella puoi anche scrivere se lo conosci il percorso del programma che vuoi avviare qui un esempio con Ccleaner Durante la digitazione se dovessi commettere qualche errore di scrittura puoi semplicemente cancellare tale errore come se stessi scrivendo un normale testo Ancora, se sul desktop hai un'icona di collegamento potrai trascinare l'icona o l'eseguibile direttamente nel campo di scrittura Dopo ovviamente cliccando su OK produrrai lo stesso effetto di apertura del programma o del file Il pulsante annulla invece chiuderà la finestra mostrata mentre il pulsante sfoglia ti permette di individuare tramite Esplora File, Esplora Risorse il percorso dell'elemento che dovrai individuare ed avviare Quando digiti qualcosa nel riguadro diciamo che rimane memorizzato infatti potrai ritrovarlo in seguito da un menu a tendina che si apre cliccando su questo riguadro qui troverai mostrati tutti i programmi o i file che avrai aperto in precedenza È un modo molto utile per non dover digitare di nuovo e quindi avviare più rapidamente l'elemento Bene, guti, andiamo a vedere la parte pratica della lezione per cui è che riguarda il comando Esegui Il modo più rapido, come detto, per avviare la finestra del programma Esegui è individuare il pulsante Start e cliccare con il pulsante destro del mouse Dalla lista individua la scritta Esegui e cliccaci sopra Come vedi è un piccolo riguado all'interno del quale puoi scrivere un nome Qui già trovi evidenziato un nome di un programma Sarà sufficiente digitare il nome Cliccando su OK si aprirà dopo qualche secondo il programma relativo Altra possibilità per avviare un programma è cancellando quanto scritto è trascinare un'icona di collegamento direttamente nella zona di scrittura Dopodiché cliccando su OK si aprirà il programma dopo qualche secondo Altra possibilità è selezionare eventualmente dalla lista dei file o programmi precedentemente selezionati quello che ci interessa particolarmente come in questo caso possiamo aprire Microsoft Configuration Altra possibilità è individuare tramite il pulsante sfoglia il percorso del file da aprire Scegliamoci un programma dalla lista dei programmi installati il fan view è il mio programma di visualizzazione delle foto Eccolo qui Andiamo a vedere un'altra possibilità di come avviare questo programma è andare nel menu Start massimizzare il numero di piastrelle visualizzate e scorrere fin tanto che non si trova il programma esegui Eccolo qui mostrato Possiamo interagire con il pulsante destro aggiungendolo alla schermata Start o alla barra delle applicazioni o individuare anche il percorso del file Eccolo qui come vedi da questa barra è individuato il percorso del programma esegui Altra possibilità che abbiamo visto dal menu è aggiungere al menu Start quindi da questa sezione potremmo avviarlo immediatamente come vedi io l'ho anche posizionato qui sul desktop per praticità Ultima possibilità è avviando la cherms bar nella zona di ricerca scrivere semplicemente esegui dopodiché una volta individuato cliccarci sopra per avviarlo Bene Guterne la prossima lezione ci manteniamo ancora in questa sezione del pulsante Start Ora come sempre un forte saluto Ciao a presto da Carlo e alla prossima